ciao benvenuti alla lezione di total body secret brucia grassi allora cosa ci serve una sedia un materassino ma soprattutto le scarpe da ginnastica per avere una buona struttura un buon supporto alla struttura del piede e in parte anche della caviglia delle caviglie ovviamente tutte e due acqua a disposizione sorseggiate durante la lezione idratatevi molto bene terminata la lezione bene ragazzi siamo super pronti abbassate un attimo la temperatura lo faccio anch'io mi dimentico sempre di farlo perché suderemo e ci verrà caldo ok iniziamo a sciogliere le spalle inizio soft ok per sciogliere diciamo le articolazioni dire toc toc guarda che stiamo per muoverci tutte ok mani sulle spalle tre circonduzioni così e inverto il senso uno due tre braccia in avanti sforbicio apro sforbicio apro sforbicio apro lascio cadere e lascio proprio scrollare come se avessi dell'acqua da togliere dalle dita delle mani ok ora mani ho messo il tappetino storto ragazze perché altrimenti poi non mi viene un esercizio in mansarda non riesco a a fare proprio tutto le fasi di volo poi l'altro giro vabbè non anticipo troppo e non impariamo esattamente a volare oggi però ci sentiremo più leggeri vado a destra e a sinistra mi ossigeno mi allungo bene in alto con la colonna voilà piedi unite gambe un po piegate facciamo delle piccole circonduzioni delle ginocchia sopra l'area dei piedi dall'altra parte molto bene alza e abbassa i talloni 5 4 3 2 1 circonduzione del ginocchio in questo modo in realtà la circonduzione a carico dell'anca fammi l'altro giro ora nel senso tipo il salto ad ostacolo voilà e adesso pensa con il ginocchio di toccare la spalla molto bene una marcetta sul posto nel quale ci abituiamo ad un movimento diciamo iniziamo a fare una stimolazione del sistema cardiovascolare light spingo bene dalla pianta del piede muovo bene le braccia mi allungo bene in alto con la colonna faccio dei respiri profondi comincio ad intensificare la mia camminata sul posto dovremmo necessariamente intensificare questa attivazione ragazzi ormai lo sapete e lo faremo con un primo percorso all out dieci secondi di sforzo a massima intensità e venti secondi di riposo passivo ve lo chiamo io il riposo sarà nella prima parte passiva nella seconda parte lo faremo attivo quando attivo è una camminata o anche semplicemente quella che stiamo facendo sul posto gli esercizi di questo primo percorso sono veramente semplici quindi ve li chiamo io al momento perché saranno per lo più esercizi che conosciamo come corsa sul posto skip jumping jack calciata dietro ok allora direi che siamo pronti per partire ragazzi faremo appunto questo primo percorso fatemi guardare la lancetta dei secondi della mia sveglietta tecnica precisissima per chi osa dire che i miei 10 secondi non sono 10 secondi precisi vi voglio bene resistiamo mi raccomando 5 secondi ragazzi partiamo con la corsa veloce 4 3 2 1 vai di corsa veloce 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 muovi tanto le gambe tanto le braccia tante le gambe tanto le braccia vai 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 corri 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 velocissima 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 pausa sul posto mi allungo in alto faccio dei veri respiri il prossimo ragazzi sarà jumping jack trovate quindi solo lo spazio per aprire e chiudere con il saltello le vostre braccia partiamo fra 5 secondi 2 1 vai saltellino ricordati di fare solo un riposo e chiudo tipo così se ti dà noia la fase di volo del salto pausa resta ferma in una buona postura il prossimo sarà lo skip alto delle ginocchia in avanti ok mi ossigeno bene bene la postura anche in questo riposo funzionale partiamo fra 3 2 1 vai skip alto sulle ginocchia bene su 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 vai 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 pausa sul posto il prossimo sarà calciata dietro mi allungo bene in alto bene il girovita che sostiene il fratto lombare calciata dietro sapete che è la corsa donna dove i talloni colpiscono i glutei 3 2 1 si parte vai calcio il gluteo vai veloce 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 pausa ripeteremo questa micro sequenza un riposo attivo l'unica variante quindi ripartiremo dalla corsa precisamente fra fra ci sei secondi cinque 4 3 2 corso sul posto vai corri 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 su vai veloce con le gambe vai veloce con le braccia di più 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 pausa resta scusa cammina e non riposo attivo di ossigeno bene il prossimo sarà genting jack con valuta i tuoi spazi per le braccia vediamo io mi metto ancora qui come ero prima 3 2 1 vai belle veloci 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 di gambe veloci di braccia pausa cammina il prossimo sarà ragazzi la lo skip alto cammino io resto in realtà in quest'area perché così vedo bene il tempo partiamo fra cinque secondi 4 3 2 skip alto vai su bene le ginocchia su 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 tanto vai 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 su 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 pausa cammina ora abbiamo il prossimo esercizio che sarà la calciata dietro dopo di questo io abbasserò ancora anzi faccio entrare così 3 2 1 calciata dietro vai super super veloce dai 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 e stop cammina per una ventina di secondi dopo di che ti spiego otto esercizi ok io dico a secco vale a dire poco prima di inserirli all'interno di un percorso che oggi sarà un percorso piramidale sempre con l'obiettivo di stimolare il nostro sistema cardiovascolare il nostro metabolismo sia durante lo sforzo ma soprattutto anche dopo nella fase di riposo quindi il nostro corpo andrà a usare un po' tutte le riserve energetiche che abbiamo anche quelle lipidiche che è quello un po' che ci interessa soprattutto nella fase di riposo bevete un po' d'acqua sorseggiate basta ne vedete anche l'effetto sonoro del glu 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 questa bottiglia fa bene il glu 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 bene allora come vi dicevo faremo otto esercizi poi non vi guiderò io nei tempi nelle ripetizioni preoccupate la vostra preoccupazione sarà un po' di ricordare i nomi degli esercizi l'immagine diciamo che così viene quasi subito l'esercizio viene veloce il richiamo ecco eseguirlo bene e alla massima intensità possibile squat allora a fondo squat con un passo dietro l'abbiamo già visto in altre lezioni fai un lungo passo all'indietro e bada di non fare il passo tenendo un piede allineato all'altro altrimenti l'equilibrio compromette la velocità e l'intensità quindi quando fai il passo un piede come dire su un binario e l'altro vedi che se mi metto di fronte sono così altro dettaglio importante che ci sia l'allineamento del ginocchio sulla punta del piede quindi non è poi questo non dovete farmi questo ma un lungo passo il ginocchio dietro arriva a sfiorare il pavimento dove il tallone dietro va alzato e il busto non deve ritrovarsi ok se siete proprio sfinito e fate questo altrimenti deve stare sulla verticale perché così il carico ci fa lavorare di più i nostri glutei poi lo chiameremo spiderman con la sedia ovvero tenete la sedia lì in un angolino ma a portata di mano fate a secco spiderman che è questo appoggio le mani sul sedile ok porterò un ginocchio verso o il gomito o ancora meglio verso la spalla quando questo succede sentirete il corpo che vi va un po in avanti quando invece riunisco i piedi il corpo va un pochino indietro le due attenzioni che vi chiedo anzi più di una non state insaccate nelle spalle così ma sempre respingete il suolo con l'appoggio delle mani uno due la schiena errore quello di rimanere con la schiena inarcata e fare l'esercizio così altrettanto errore fare l'esercizio con la schiena curva ok quindi schiena diritta come una tavola se non arrivo proprio al gomito ok fate provando vero fermatevi un po prima prioritaria la schiena questo sarà spiderman poi un piede scaccia l'altro allora guarda qui un piede deve sempre essere al centro e uno fuori penso proprio che un piede scaccia l'altro ok sotto forma di saltello se ti fa male il saltello fallo con una fase di volo molto ridotta ok poi superman superman a terra giusto ah no sì a terra alternato allora guardate il superman oggi è la giornata di un viaggio fatto fare spiderman e superman è la giornata dei supereroi perché lo siamo anche noi ci metteremo pancia in giù ok mi si tagliano le mani ma intuite che ci sono alzeremo con un doppio molleggio prima un braccio una spalla e poi l'altra fate attenzione che nella posizione da proni lo sforzo non deve essere fatto dalla lombare ok quindi datemi tenete forte forte il girovita in parte l'erettore spinale che passa anche attraverso la lombare ci lavorerà però un conto se mollo completamente il controllo un conto se tengo l'idea della powerhouse e del girovita forte e dell'allungo quindi non devo pensare solo a vado in alto ma anche proprio in lungo ok in questa diagonale alta ok e poi allora abbiamo battezzato anche spider l'esercizio spider ci sarà il jumping jack ok ribadisco che se vi danno fastidio i saltelli fate o lo faccio così ok alternando un po oppure con dei finti passettini apro chiudo veloce poi un ripasso veloce di rolling a terra allora vi metterete all'inizio del vostro tappetino faremo una una discesa con capriola sulla schiena mi aiuto guarda bene questo passaggio e non deve essere a mi fermo lì qui mi aiuto con le mani ok e vengo su in piedi chiaro yes poi ah lo squat più gem allora un altro esercizio che faremo sarà squat tempo di una foto di scattare una foto e gem squat salto ok ricordati bene i dettagli dello squat uno le ginocchia si piegano sulla linea delle dita dei piedi posso lasciare un po di extra rotazione alle anche quindi anche i piedi quindi quando scendo eh c'è questo facciamolo anche alla seconda va benissimo con il salto ricordati di fare il salto solo una volta che hai raddrizzato bene il busto non iniziare a saltare prima ok infine basta rolling più gemma quella è una composizione l'ottavo esercizio sarà rolling più gemma comunque non te preoccupare bevi un goccino d'acqua e iniziamo insieme il nostro percorso che come ti dicevo sarà un percorso piramidale faremo un minuto con due esercizi 30 secondi di pausa due minuti con quattro esercizi 30 secondi di pausa tre minuti con sei esercizi 30 secondi di pausa quattro minuti con otto esercizi 30 secondi di pausa e poi tutto a scendere in maniera sequenziale bene allora mi metto bene l'orologio qui partiremo la sequenza sarà questa che abbiamo visto mi tengo anch'io il mio pizzino qui per ricordare partiremo fra dieci secondi ragazzi e faremo e faremo lo squat con il passo dietro 5 4 3 2 si parte alterna piede destro e sinistro a metà di questo minuto ti dirò io il cambio e sarà lo spider man con la sedia esegui bene questo passo dietro con affondo vai giù bene ancora un po ragazzi 5 secondi e cambiamo vai verso la tua sedia ora spider man qui vai con il ginocchio verso il gomito o verso la spalla forti nella schiena forti nell'addome forti nelle braccia ancora pochi secondi stop cammina per 30 secondi se vuoi se osseggia un goccio d'acqua fatto il prossimo allenamento sarà due minuti quattro esercizi ripartiremo dall'affondo dietro e aggiungeremo via via gli altri ok 5 secondi 5 secondi da adesso partiamo preparati per il passo dietro pronti ora vai passo e affondo dietro tieni bene il girovita fai collaborare anche le braccia con il movimento in avanti piedi che appoggiano come su due binari eh ricordati girovita forte colonna bella diritta il prossimo esercizio sarà spider man mani sulla sedia 5 4 3 2 cambia vai alla sedia allungati vai ginocchio al gomito schiena diritta non è né inarcata in un senso né nell'altro il corpo va un po' avanti e indietro avanti quando il ginocchio va al gomito dietro quando le gambe si uniscono pochi secondi ancora faremo un piedi un piede scaccia l'altro tre secondi ancora stop preparati mani ai fianchi un piede scaccia l'altro vai veloce il prossimo sarà super bene la pancia in giù u la la dai 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 dieci secondi di un piedi un piede scaccia l'altro ancora tre due uno pancia in giù bene la posizione braccio a superman doppio alternato e il braccio allunga allunga si alza e allunga si alza allunga si alza allunga pochi secondi ancora guardo la sveglia ok stop 30 secondi di pausa ragazzi un sorsino d'acqua e poi rifaremo aggiungendo altri due esercizi quindi tre minuti con l'aggiunta di due esercizi a questa sequenza cammina cinque secondi partiamo con l'affondo dietro pronti ora vai bene l'esecuzione bene la velocità parlo più veloce di me parlo più veloce di me non do il conteggio perché ognuno ha il suo ritmo io devo essere lenta a confronto il prossimo sarà con la sedia spiderman con la sedia precisamente fra tre due uno vai alla sedia preparati parti vai gomito ginocchio gomito schiena in una linea forte 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 veloce forte veloce vai intensità intensità il prossimo sarà un piede scaccia l'altro tra pochi secondi resisti ancora un po vai ora prepara un piede scaccia l'altro e poi ci sarà superman pancia in giù ok terminiamo prima questo fatto bene veloce vai 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 siamo bravissimi bravissimi cinque secondi ci mettiamo pancia in giù ragazzi tre due uno mettiti pancia in giù inizia tengo l'orologio qui vai solleva ricordati il braccio su 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 il il prossimo sarà jumping jack da in piedi voilà continua continua giro vita forte e voilà in piedi subito jumping jack apro e chiudo vai devo trovare un punto dove vedo la sveglietta fatto questo faremo per 30 secondi il rolling la capriola sulla schiena dai che siamo super brave super bravi pochi secondi ancora pausa preparati all'inizio che pausa vai dietro volevo dire cambio su dondola aiutati a salire con le mani allungati un po quando sali su dai 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 che poi forza pausa voilà 30 secondi un sforzo d'acqua poi arriva il momento clou ragazzi più intenso del percorso 4 minuti 4 minuti 4 minuti 8 esercizi 4 minuti 8 esercizi ammetto che il fiato per parlare oggi scarseggia ok ragazzi si parte vai passo dietro a fondo ricordati i dettagli chiedi come su due binari schiena che scende diritta verticale molto bene continua guardavo il prossimo che sarà con la sedia sarà spiderman pochi secondi vi dico io vai ora preparati mani sulla sedia corpo in linea gomito con il ginocchio tocco il gomito vai un po in avanti quando il ginocchio va avanti un po indietro quando le gambe si allineano continua fra pochi secondi sarà un piede scaccia l'altro vai veloce tieni la velocità 3 2 1 ok un piede scaccia l'altro forza continua il prossimo sarà o continua che sarà superman pancia in giù e precisamente ora pancia in giù vai doppio giù doppio giù tieni il girovita tienilo forte il braccio è su e in allungo tipo proprio spiderman che allunga vola vai viaggia io devo guardare il tempo beh un po vi avevo detto che avremmo volato proprio non davvero davvero ma superman alternato ci fa sognare volare sui piedi voilà jumping jack ragazze trova spazio vai a seguire ci sarà il rolling dai 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 siamo super bravi ancora cinque secondi e poi capriola sulla schiena con arrivo in piedi allungo preparati vai allunga un po dopo ci saranno due esercizi ragazzi lo squat con il jump con il salto eh su donna su ce ne sta un altro fine preparati squat con il jump giù salta squat salta squat salta squat up squat up squat up squat squat up vai non mollare adesso guacchi molla guacchi molla ok ultimo esercizio qui rolling più squat and jump vai vai dondola sulla schiena arriva in piedi scusa solo con un salto senza lo squat dondola salta rolling up dai questo amata lo so aiuto aiuto ce ne sta ancora uno voilà pausa bevi 30 secondi poi tre minuti si decresce quindi sei esercizi invece che otto ero indecisa se fare un'altra volta i quattro minuti ma 5 10 secondi e ripartiamo 5 4 3 2 vai passo e affondo questo è il momento più duro della lezione resisti resisti fai bene l'esercizio compensa in avanti con le braccia il prossimo sarà sulla sedia spider man precisamente ora vai mani ginocchio al gomito vai 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 supera questa fase resisti e supera la metabolicamente la più dura dai dai che poi il corpo ringrazia il prossimo sarà il piede che scaccia il piede 3 2 1 piede scaccia piede mani ai fianchi vai 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 saltellino riduci il saltello sei male a caviglio ginocchio schiena il prossimo sarà superman pancia in giù giusto sì e precisamente ora prana prani vai braccia lunghe superman con doppio volo doppio molleggio tieni forte il tuo girovita qua non vedo l'ora eh nel senso la lancetta dei secondi devo trovare il modo di sbirciare la lancetta pochi secondi tre due in piedi jumping jack amici miei pronti prontissimi vai il prossimo sarà il rolling la capriola sulla schiena e a seguire pausa metto un po il cuore in pace pausa di 30 secondi vai io ho le braccia flessere che non ci sto eh voi stendetele stop capriola sulla schiena allungati scendi capriola aiutati con le mani e ancora vai dai che poi abbiamo un sorso d'acqua che ci aspetta sei contenta sei contento dai ultimo ci sta stop wow 30 secondi sorso d'acqua a seguire due minuti quattro esercizi amici stiamo scendendo dalla piramide stiamo anche un po recuperando forse cinque secondi partiamo con lo squat dietro ora vai dai che sei in fase discendente della piramide resisti ossigenati bene sei super brava super bravo cinque secondi e passiamo a spiderman con la sedia ora mani sulla sedia corpo in linea vai ginocchio al gomito a seguire ci sarà un piede che scaccia l'altro vai dai dai 3 2 1 vai mani ai fianchi un piede scaccia l'altro e a seguire ci saranno 30 secondi di pausa bene movimento 3 2 1 pausa cammina no no superman a terra scusami perdonami perdonami vai superman a terra mi sembrava qualcosa non andasse troppo facile lo rimuovo perché non vedo la lancetta dei secondi perché ho la sedia che mi sta avanti voi continuate pochi secondi ancora vai allunga bene il braccio pausa adesso 30 secondi davvero 30 secondi goccine d'acqua poi un minuto di lavoro due esercizi io direi di fare l'affondo dietro e il rolling con jam pronti vai affondo affondo lungo il passo dietro vai fai bene fai benissimo questo è proprio cancelliamo ogni residuo di riserva energetica va che ci manca poi l'ultimo ragazzi 5 secondi rolling con saltino finale ora allungo capriola arrivo in piedi salto capriola arrivo in piedi salto dai te lo giuro l'ultimo su promesso promesso poi ci facciamo una bella pausa con applauso 5 secondi 3 2 1 applauso bambina non stare fermo sorseggia un po' d'acqua molto 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 bene I'm very proud of you ok ora abituiamo il corpo a passare dalla fase di sputo i polmoni recuperiamo una respirazione un battito cardiaco di riposo quindi accompagniamo il nostro sistema cardiocircolatorio non di botto eh uh ma con una fase di riduco l'intensità via via quindi facciamo questo step touch laterale a cui abbino un movimento di respirazione profonda con estensione abduzione delle braccia respira profondamente il corpo ha bisogno di tanto ossigeno quindi fai dei respiri profondi fai delle belle ispirazioni butta fuori bene l'aria l'anidride carbonica riduco sempre di più l'ampiezza del passo lascio le mani ai fianchi continuo a respirare profondamente ad allungarmi bene nella colonna sempre più mignone questo passettino sempre più microbico marcettina sul posto intreccia le dita delle mani mi avvicino perché non ci sto allungati bene verso l'alto io sto mantenendo le dita intrecciate i palmi sono rivolti in alto allungati bene pensa di elevare la gabbia toracica dal bacino e giù molto bene ora riprendiamo le mani le dita intrecciate prima ci allunghiamo in alto tiro bene dopodiché mettiamo le mani così mi avvicino così vedi meglio i palmi sull'incavo anche della piega dei pantaloni ok vai in piegamento le braccia devono essere distese spingi in giù i femori allungati bene con la colonna lento il ritorno e di nuovo dita intrecciate mi allungo e mani sull'incavo piegati allunga la tua colonna ancora mi ossigeno bene e tira bene ultimo e giù molto bene sciogli un po' le spalle piccoli cerchi divarica le gambe lascia le puntine le ginocchia un po' con fuori braccio destro che fa questo viaggio gomito sinistro che si appoggia sull'incavo ancora dell'anca vado in flessione laterale cerca di spingere il costato in alto e con il gomito spingo in questa direzione il bacino attenzione a non rimanere chiusi con le spalle mantieni l'apertura del petto e piano su dall'altra flessione laterale gomito nell'incavo dell'anca destra spingo il costato in su e lento su prima il braccio busto e rientro un po' mani sulle cosce e scendi con la testa con il collo le mani seguono la linea delle gambe fino alle caviglie prova a tirarti un po' lascia tese le gambe se puoi chiuditi più che puoi ok piega le gambe metti le mani sulle ginocchia risali con la forza delle braccia vieni su lentamente ok lo ripetiamo respira e segui le gambe vai con le mani a prendere il retro delle caviglie o dei talloni in prossimità della scarpa diciamo tirati avvicinati alle gambe e con la sommità della testa cerca di andare verso il basso lascia la testa a ciondoloni piega le ginocchia sposta le mani con la forza delle braccia fai risalire lentamente il busto trova un appoggio per le mani di stabilizzare l'equilibrio e andiamo in stretch con il polpaccio destro un lungo passo dietro voilà cambio sinistra mantieni la linea dal piede di terra alle spalle per capirsi no così no così se hai uno specchio di lato a te una parete riflettente dove scorgere la linea generale del corpo tieni il girovita respira profondamente e cambia cambio dorso del piede in presa sto usando sto prendendo con la mano destra il piede destro trovo un appoggio per l'equilibrio io ho il soffitto comodo attenzione a non avere il ginocchio là né qua dietro sotto la sua anca strizza i glutei mantieni l'allungo della schiena tira lo muscolo della coscia senti tirare in prossimità dell'anca e del ginocchio lascio cambia ricordati il ginocchio sotto all'anca non avanti non dietro sotto corpo allungato un'unica linea dal ginocchio alla testa molto bene sciolgo lascio le gambe leggermente separate le braccia staccate dal corpo e leggermente in avanti appena appena tutto l'asse del corpo si sbilancia in avanti e pensa di allungarti dalla nuca per dieci secondi mentre le mani vogliono toccare terra uno due attenzione no così no così tutto l'asse del corpo in avanti e sentirai che le dita fanno grip a terra uno due tre quattro allungati con la schiena e con le braccia cinque sei sette otto nove dieci rilassa devi come pensare di avere una pressa sulla te bella immagine e di continuare a spingerla in su ok lo rifacciamo gambe leggermente separate braccia che si allontanano e si antepungono di poco mani a paletta metto la gola sguardo all'orizzonte inclina il corpo doppio autoallungamento da una parte la colonna immagina di spingere in alto dei pesi e le mani toccano il pavimento tieni dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno torno in asse sto con le gambe un po' piegate scendo piano prima la testa il collo le spalle e resto giù mi rilasso un attimino lascio giù la testa penzoloni giù il collo rilassate le braccia e molto lentamente con le gambe piegate fai risalire la schiena pian piano molto bene dita intrecciate ultima estensione un ampio arco con tutto il corpo dai piedi alla testa come se fosse uno sbadiglio e ritorno molto 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 bene è arrivato il momento di bere insieme un abbondante bicchiere d'acqua non so voi ma io sono abbastanza provata e niente con questo vi ringrazio se avete tempo praticate la lezione per esempio di stretching muscolare vi rilassate togliete tutte le tensioni abbiamo già fatto lo stretching diciamo per favorire sia per il ritorno della muscolatura una lunghezza normale per favorire la circolazione per favorire lo smaltimento dell'acido latico se volete potenziare questo aspetto e questo rilassamento assolutamente potete abbinare lo stretching muscolare con questo io vi ringrazio e vi aspetto prestissimo con una prossima lezione con una prossima lezione Grazie a tutti.